Buongiorno Gianluca Buongiorno Francesco Allora stamattina parliamo di un argomento che credo che chi ci ascolta possa trovarlo di grande interesse che è il tema di un timore che spesso può comparire nei nostri pazienti che il loro disturbo possa diventare cronico e mi riferisco in particolare al tema del disturbo depressivo ovvero chiariamoci la tristezza è un sentimento umano che non è una malattia la depressione è un disturbo ben preciso il timore di chi è affetto da un disturbo depressivo è quello che non ne esca più uso questa immagine semplice e chiara per dire quello che è il sentimento che spesso ci viene riportato specialmente se il disturbo non si risolve rapidamente perché ci possono essere episodi che si risolvono rapidamente e altri invece che durano di più nel tempo ma il timore è quello di diventare un malato cronico cioè di doversi curare tutta la vita oppure peggio ancora non è tanto la cura di star male tutta la vita perché poi il vero problema è questo non è la cura è di star male tutta la vita perché quando uno dice mi viene la depressione cronica intende sarò triste tutta la vita intanto ti ringrazio come sempre per questi ottimi quesiti così stimolanti che mi invitano a fare delle riflessioni questo tema è un tema assai importante oggi abbiamo 280 milioni 300 milioni circa approssimativamente di soggetti depressi nel mondo le cifre parlano chiaramente parlano di una malattia assolutamente invalidante per certi versi sicuramente drammatica associata a cronicità associata a compromissione psicosociale che cosa possiamo fare noi per cercare di fare in modo che tutta questa cronicizzazione in qualche modo venga interrotta creando così dei circuiti virtuosi per i quali effettivamente si possa arrivare appunto a una guarigione stabile nel tempo questo non deve essere esclusivamente coltivato in maniera utopistica oppure immaginare una dimensione idilliaca nella quale mi vedo al di là della depressione no, dalla depressione si può guarire l'importante è inquadrarla bene clinicamente e tracciarne bene la sua evoluzione nel tempo ecco, quando si presenta un malato con una condizione depressiva oltre naturalmente a procedere nella diagnosi io mi devo rendere conto di quanti episodi ha avuto nella vita banalmente di quanto sono stati lunghi e caratterizzanti diciamo le fasi più significative della sua esistenza di quanto questi episodi, di quali tipi di intervalli liberi si sono creati tra un episodio e l'altro di quali sintomi residui ci sono stati tra l'uno e l'altro episodio che possono aver rifacilitato la ricaduta più precoce nel disturbo sembrano cose davvero banali ma nella maggior parte dei casi non vengono indagate ecco, quindi massima attenzione già a tutta una serie di elementi che ti consentono di tracciare bene il disturbo sul piano clinico al primo episodio della malattia io ho bisogno di mettere in atto una terapia che normalmente è tra i 6 e gli 8 mesi al secondo episodio di quella malattia ho bisogno di un anno e mezzo forse due anni della stessa terapia dopo il terzo episodio cambia completamente la prognosi e la decidono il medico e il paziente insieme quindi banalmente sono già tutta una serie di indicazioni fondamentali che mi orientano e influenzano profondamente il mio modus operandi ecco, allora già questo mi serve per sicuramente riprendere un concetto del quale già abbiamo avuto modo di parlare io e te in passato che è essenzialmente la specifica condizione clinica che ho davanti e attenzione perché già da questo ripeto posso avere delle informazioni preziosissime gli interventi che posso mettere in atto beh, innanzitutto posso andare a intervenire con le diverse modalità a seconda della variante del fenotipo che mi trovo davanti e sicuramente devo mettermi sempre di più oggi come oggi nella condizione di poter portare avanti una terapia che sia di continuazione prima di mantenimento e poi di continuazione quindi nel tempo ecco, qui si entra immediatamente nell'ambito specifico tante volte, e questo accade in continuazione ti chiamano i malati e dopo essersi sottoporsi ai tempi che tu avevi previsto per quanto riguarda il trattamento ti chiedono, beh, adesso possiamo sospendere proprio perché la malattia sembra tenuta a bada sembra in equilibrio, sei in una fase di compenso e quindi tutto sommato possiamo andare verso la sospensione ecco, io invito sempre alla massima cautela c'è un momento in cui questo avviene naturalmente come in tutte le terapie, come in tutte le relazioni terapeutiche specifiche però dobbiamo avere in mano la situazione e cercare anche a volte di avere più pazienza rispetto a quello al tempo per il quale porteremmo avanti quel tipo di terapia questo anche qui si va a scontrare con tutta una serie di esigenze sì, ma il farmaco altera la mia qualità di vita provoca una certa collateralità se parliamo degli aspetti psicofarmacologici oppure la psicoterapia è arrivata a un punto tale per il quale si rende un po' particolarmente difficile continuare a procedere insieme c'è un momento nel quale fisiologicamente accade che vi debba essere un'interruzione però questo lo si decide insieme si deve avere massima cautela si deve portare avanti una dimensione di benessere perché non ci dimentichiamo mai che gli esseri umani hanno costruito nel tempo il loro stare, vivere su questa terra proprio grazie al punto di equilibrio a portare avanti le condizioni di stabilità sempre e comunque a lungo nel tempo quindi questa dimensione di portare avanti le cose per un certo periodo di tempo darsi del tempo, concedersi del tempo ritorna di nuovo a questo concetto mi sembra mi senti Francesco sì, sì, ti sento mi sembra che ci sia un problema collegato col come dire riconoscere la possibilità di convivere in realtà col proprio disturbo ovvero se io sto bene prendendo una medicina perché devo pensare di essere malato di medicina e non riconoscere malato dell'assumere la medicina e non invece riconoscere che la medicina mi permette di vivere meglio tradotto l'esempio vale anche vale anche per la psicoterapia devo andare una volta alla settimana dal mio terapeuta perché abbiamo diminuito le sedute ma con questa volta io continuo a stare bene sono dipendente dalla psicoterapia non lo so forse ma se il vantaggio è che poi sto bene negli altri 23 ore della mia vita questo secondo me tocca uno degli aspetti più importanti della nostra pratica clinica e che ricorre in continuazione ecco ripeto è uno degli aspetti centrali proprio perché ti trovi di fronte molto spesso alla richiesta del vabbè adesso le cose vanno bene siamo riusciti a ottenere un equilibrio e in fondo possiamo sospendere no? e attenzione perché ripeto attraverso quella sospensione passano una serie di elementi innumerevoli e forse il malato come dici tu è un po' portato a un aspetto di negazione della propria malattia e al non riconoscersi in quel ruolo di malato che è davvero un ruolo scomodo e in questo ci ritroviamo perfettamente tutto quello che ha significato da sempre lo stigma la discriminazione nei confronti delle nostre malattie non hai la depressione ma sei depresso no? non hai la schizomenia ma sei schizofrenico sei psicotico no? ecco tutto questo suona in maniera orribile no? nel risuona in maniera orribile nelle menti dei nostri malati e ha a che fare con un livello interno di stigma che ovviamente è stato modulato nel tempo da tutto quello che si è detto in qualche modo si è fatto nei confronti dei malati psichiatrici nei secoli e profondamente ecco su questo forse aveva davvero ragione Albert Einstein no? spezzare un atomo è più facile che non spezzare un pregiudizio se ci pensi è davvero così no? i pregiudizi nei confronti delle nostre malattie sono ormai entrati dentro al modo di fare modus operandi dello stesso del paziente e poi del medico stesso portatore egli stesso di un livello di stigma cosiddetto self-stigma sì io credo concludendo che forse il vero problema sia quello del rapporto costo-beneficio cioè il tema è un po' questo parlando di situazioni gravi io credo che il tema sia probabilmente come dire esiste ma in tutti gli ambiti della medicina non tanto una psichiatria un costo da pagare ma certamente e se però il risultato di questo costo è una qualità di vita migliore rispetto a rinunciare a quel costo bisogna e credo che questo sia anche un lavoro importante che deve fare il medico nei confronti del malato perché poi c'è questo aspetto qua cioè come dire essergli vicino nel dolore di dover continuare a curarsi ma certo ecco far percepire la propria vicinanza significa anche questo tu hai detto bene adesso cioè significa entrare in una sorta di contratto terapeutico che però si rimodula in continuazione cioè tutte le posizioni rigidamente consolidate sono assolutamente inopportune e vissute molto male percepite molto male il rapporto terapeutico è il rapporto che si rimodula in continuazione e si riconsiderano delle posizioni si condividono insieme dei nuovi aspetti che sono aspetti integranti delle nostre malattie le nostre malattie sono malattie fortemente patoplastiche e quindi insomma come dire c'è una intrinseca plasticità in termini delle nostre patologie e in questo rapporto assolutamente dinamico deve entrare anche la figura del medico che insieme al paziente affronta questo dolore spesso davvero terribile legato alle nostre condizioni ma si ipotizzano poi insieme delle soluzioni si trovano insieme appunto degli scenari si aprono insieme dei nuovi orizzonti sì io credo concludendo che il vero tema sia che solo insieme si attiene una resilienza rispetto ai disturbi cioè in un buon rapporto medico paziente in cui il paziente riconosca al medico la competenza e il medico riconosca al paziente la sofferenza e anche il dispiacere a volte di curarsi può nascere quella resilienza che proprio per la plasticità grazie a Dio della nostra mente può farci uscire ma certo consentimi di dire quest'ultima cosa la figura del terapeuta è un po' quella della figura di accudimento sufficientemente buona no? ti ricordi questa terminologia che ha a che fare con il setting psicoanalitico no? e perché parlo di questo? perché oggi le evidenze più recenti testimoniano esattamente questo che è l'aspirazione di ciascun buon terapeuta quello del riproporre il setting primigenio che può essere stato quello della figura emotivamente significativa materna che è andata ad aprire le porte della creatività è andata a modulare lo spessore della tua corteccia no? è andata a far sì che le aree cerebrali significative acquisissero sostanza grigia esattamente la stessa tipo di funzione dovrebbe avere il terapeuta aprire le porte della creatività e stabilire insieme al malato una nuova dimensione di senso sono totalmente d'accordo speriamo che succeda più spesso assolutamente ciao Francesco alla prossima ciao ciao